Presidente, la Bapineto svolta la presentazione di un allenatore di prestigio come Franco Bertoli, però torno un attimo indietro. Come mai questa separazione da Rovinelli all'apparenza di una squadra prima in classifica in piena lotta? Sì, può sembrare ed è anomalo, insomma, l'esonero di mister Rovinelli che è una squadra che ha primeggiato tutto il campionato, il girone di andata. Le strade si sono separate in maniera consensuale, rimane una stima reciproca, riconosciamo a lui grande professionalità e grande lavoro svolto qui a Pinedo, però anche i migliori matrimoni possono avere una fine. Abbiamo voltato pagina investendo il mister Franco Bertoli a cui abbiamo ritenuto opportuno che questo poteva essere il profilo giusto che potesse dare, come dire, quella linfa nuova e potesse dare quello slancio importante, lo slancio vitale per questa fine di campionato perché, come voi ben sapete, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Assolutamente, ce l'ha confermato anche lo stesso Bertoli. Come mai la scelta nei suoi confronti, la mitica mano di pietra del volley italiano? Beh, la scelta, diciamo che si è presentata l'occasione, come dire, di portare Franco Bertoli a Pinedo e quando abbiamo capito che c'erano le condizioni non abbiamo esitato. Non abbiamo esitato, abbiamo, tra virgolette, affondato il colpo perché, ripeto, abbiamo ritenuto che lui potesse svolgere un ruolo molto importante in questi ultimi quattro mesi di finale di stagione. Potesse svolgere un ruolo che può essere sia quello sicuramente da allenatore, perché comunque il suo trascorso, tutto quello che è stato Franco Bertoli, non lo sto rappresentando io oggi qua e anche da allenatore. Però riteniamo che lui possa avere quei meccanismi giusti e quella, diciamo, giusta propensione a saper parlare ai ragazzi, perché molte volte è importante anche agire sulla testa dei ragazzi e non solo a livello fisico. Chiudo chiedendole un bilancio finora della stagione della Bapineto Volley. Il bilancio non può che essere positivo. È chiaro che a inizio campionato avremmo firmato per chiudere il giro andata da prima in classifica. Adesso c'è da confermare quello che abbiamo fatto nella prima parte di campionato e con il mister Bertoli incrociamo le dita e speriamo di proseguire per questo cammino.